Che campionato farà? Ormai è qualche anno che si dice, siamo un po' ripetitivi, però sembra che il livello sia sempre più in crescita, che le squadre siano sempre più equilibrate, i roster di quest'anno, almeno le prime 6-7 squadre, credo che possano davvero giocarsela e non ci si può aspettare come possa finire una partita. E quindi sarà, credo, molto emozionante, molto difficile per noi che lo giochiamo, però da una parte è molto stimolante. I tuoi obiettivi e quali di gusto? Allora, il nostro obiettivo sicuramente è cercare di fare meglio ogni anno, l'anno scorso siamo arrivati quinte, abbiamo vinto la Coppa Cebe, siamo uscite ai quarti di play-off, per cui sicuramente migliorare gli obiettivi. C'è un obiettivo personale che ho e credo che anche la società condivida, sarebbe quello di arrivare a disputare la Champions League. È chiaro che è un obiettivo ambizioso, però ci proviamo in bocca al lupo.